Allora Salvatore Campa restauratore ma anche impagliatore. Salvatore spiegaci cos'è questo mestiere dell'impagliatore. Io nasco un restauratore, come hai detto, nel ristoratore di mobili. Negli anni, piano piano, nel lavorare sulle sedie impagliate, acquisite le varie tecniche. Dall'80 in qua il laboratorio del ristoro lo aprì Papà nel 64. Dall'80 in poi abbiamo incominciato a fare tutte le lavorazioni, Paglieviene, Erba, Palustre, Cordoncino cinese, chi più ne ha più ne ha. Uso solo vegetali naturali, reperiti in zona e nonno, perché ormai ne abbiamo ben poco di materiale naturale qua da noi. E quindi piano 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 acquisite le varie tecniche e sono attualmente anche impagliatori. Mi presento nelle vostre manifestazioni come impagliatore. Tutto qui. Ha una sede lei? Sono a Taradeo, via Mattotti 115 attualmente. Comunque poi riprenderai il bigliettino da vistore. Grazie goodnight